Ciao a tutti ragazzi sono Malino, anzi no sono Malino22 e oggi sono qui per fare la tier list dei giocatori dell'Inter Allora subito due precisazioni, la prima è che purtroppo online ho trovato solo tier list della stagione 2019-2020 E quindi vabbè non metterò ovviamente i giocatori che se ne sono andati tipo Godin, Borcavalero eccetera E solo a voce dirò i vari Hakimi, Perisic, Nengolan eccetera eccetera La seconda premessa che volevo fare è che questa è una tier list che io faccio basandomi sulla forza Quindi non su quella che è la mia preferenza, però ovviamente essendo fatta da me un minimo sarà anche personale Quindi inciderà la mia preferenza, il mio gusto personale su un giocatore piuttosto che su un altro Fatte quindi le dovute premesse comincerai subito e il primo che mi dà è Andanovic Che secondo me in questo momento ora come ora è un giocatore da tier B Non me ne voglio il buon Samir, sono molto contento che sia lui il capitano dopo anni e anni Però allo stesso tempo c'è da dire che non è più quello di un tempo che sarebbe potuto stare tranquillamente tra i DS Ma ora come ora tranquillamente da tier B Padelli secondo me è D L'anno scorso, a parte in questo momento rispetto all'anno scorso non è più neanche il secondo ma il terzo portiere E poi comunque appunto l'anno scorso quando è stato costretto a sostituire Andanovic si è dimostrato non all'altezza Sensi La Sensi secondo me è tra la B e la A sinceramente perché quando è stato al 100% ha fatto vedere di essere un grande centrocampista Un grandissimo centrocampista e il problema è che non è stato praticamente mai al 100% Diciamo tra A e B dovendomi basare sul mio gusto personale lo metterei in A sinceramente De Vrai De Vrai, beh, che dire di De Vrai Negli ultimi due anni soprattutto ha dimostrato una crescita pazzesca, incredibile Il perno della difesa TRS, se lo merita tutta secondo me veramente Il perno centrale della nostra difesa senza di lui Non dico che facciamo acqua da tutte le parti perché comunque abbiamo altri buoni difensori Però ecco, diciamo che senza di lui si fatica È una diga, è il regista basso, è fondamentale a dire poco Poi abbiamo Bastoni che secondo me è da TR Anche lui tra A e B come Sensi lo metto in A sempre per gusto personale Ma diciamo che è venuto, è arrivato un anno e mezzo fa Un po' in sordina come acquisto, cioè acquisto in realtà era già nostro però dal Parma E a poco a poco ha conquistato tutti, si è conquistato il posto da titolare Ormai da... è la seconda stagione che gioca da titolare Quindi insomma Tanto di cappello a lui Ranocchia Beh, se ho messo Andanovic in B Ranocchia non posso metterlo purtroppo più in alto della C Dico purtroppo perché comunque sono affezionato a Ranocchia Sono tanti anni che gioca nell'Inter E... sempre comunque bistrattato, criticato Ma lui c'è sempre quando viene chiamato in causa da tutto per la maglia E secondo me quindi potrebbe meritare anche un riconoscimento più alto Ma ripeto, avendo messo Andanovic in B Non posso proprio mettere Ranocchia più in alto di C Passiamo a Skriniar Skriniar secondo me è tier A L'anno scorso ha avuto dei problemi a un certo punto della stagione Diciamo verso la fine Infatti aveva perso il posto da titolare a favore di Godin o D'Ambrosio Quest'anno si è ripreso alla grande Insieme a De Vrai e Bastoni sono loro diciamo I titolari o più titolari degli altri mettiamola così E a me piace molto personalmente Skriniar Quindi secondo me tier A se la merita tutta Lautaro Lautaro Secondo me è da TRS È uno che ha le caratteristiche per essere un potenziale crack Comunque ha solo 23 anni quindi è molto giovane Tra l'altro discorso giovinessa che vale anche per Bastoni che è 99 per esempio È del 97 ma comunque ha dimostrato già da due anni di poter essere tranquillamente il nostro titolare E in più comunque in questi due anni è cresciuto tantissimo anche dal punto di vista di intelligenza tattica Quindi insomma si merita secondo me questo riconoscimento del tier S D'Ambrosio allora D'Ambrosio secondo me è tra la A e la B No no dai diciamo che è B D'Ambrosio è B perché comunque anche lui si vuole bene dall'anima in campo e tutto Però è sicuramente un po' sotto sia a Sensi sia a Bastoni sia a Skriniar questo bisogna dirlo Anche se anche a lui sono molto affezionato dopo Ranocchia è quello che sta da noi da più anni No anche Andanovic dopo Andanovic c'è Ranocchia lui però comunque a prescindere Gli sono molto affezionato Abbiamo poi Brozoic Ecco Brozoic secondo me non tutti saranno d'accordo con me ma Brozoic secondo me è tranquillamente in tier S Cioè lui è quello che veramente fa girare la squadra È il metronomo di centrocampo La mente dell'Inter infatti quando non c'è fatichiamo a creare gioco e si vede E anche lui secondo me è molto sottovalutato molto più molto meno considerato di quanto dovrebbe Quindi secondo me la S se la merita appieno Abbiamo poi Sanchez Sanchez secondo me tra A e B Tra A e B vabbè lo considero comunque un po' sopra Lo considero un po' sopra D'Ambrosio Andanovic e un po' sotto ai 3 che ho messo in A ma lo metto comunque più in A che in B Perché ormai è vero che comunque è un po' vecchio e i suoi anni migliori nel calcio li ha dati Però comunque allo stesso tempo quando gioca ed è anche lui in condizione così come Sensi ha dimostrato di poter fare tranquillamente la differenza Ecco Ericsson Madonna Ericsson è difficile perché se devo valutare il suo periodo nell'Inter è C praticamente Se lo devo valutare nel complesso come giocatore sarebbe tra A e S pure lui lo metto in A comunque In A All'Inter non ha dato niente L'Inter non ha dato niente a lui Quindi ognuno per la sua strada probabilmente a gennaio Giusto così Poi abbiamo Ashley Young che in questo momento secondo me è da B Ashley Young comunque ha dimostrato volendo di poter fare il titolare alla sinistra dell'Inter Dove avevamo problemi l'anno scorso perché comunque tra Biraghi, Asamoah e Di Marco nessuno dei tre Convinceva, è arrivato lui a gennaio e si è preso tranquillamente il posto da titolare Quindi insomma TRB più che meritato anche per lui Visino non so se considerarlo Non ha mai giocato quest'anno Però vabbè Dai lo consideriamo Lo metto anche lui in B Perché comunque Non è un grandissimo giocatore Ecco mettiamola così È stato molto utile nei 2-3 anni In cui c'è stato Soprattutto i primi due anni è stato molto utile Però ecco non è un grandissimo giocatore Gagliardini Gagliardini Beh B anche per Gagliardini B anche per Gagliardini Perché comunque È sicuramente inferiore a Sensi, Bastoni eccetera eccetera Quelli in A Sì secondo me la B è giusta Lui è anche molto criticato Molto bistrattato Ma a me personalmente piace Cioè piace Però Non sono così incavolato perché gioca titolare Cioè vedo Credo che abbia i suoi perché come giocatore Poi abbiamo Lukaku Che secondo me È tranquillamente da S Insomma Cioè Lo conosciamo tutti Lukaku Sono due anni che Trascina la baracca Quindi Veramente Non gli si può dire Proprio nulla E secondo me ripeto La S è più che meritata Più che meritata per lui Per Barella Il discorso sarebbe che Secondo me Tra A ed S Personalmente lo metterei in A Sono sincero Ma Ha dimostrato di poter essere anche da S Lui è proprio a metà C'è a metà Qui Tra A Ed S Vabbè alla fine per Per gusto personale No no Lo metto in S Dai Se lo può meritare Barella di essere in S A questo punto mancano Ovviamente i nuovi acquisti Di quest'anno Quindi abbiamo Vidal Perisic Nainggolan Akimi Darmian Kolarov E Radu Dovrebbero essere Ah e Pinamonti pure Quindi Facciamo finta che questi qua sono Sono quelli Nuovi acquisti Facciamo finta Un po' rustico Però Non vedo altre soluzioni Quindi facciamo finta che lui sia Radu Allora devo essere sincero Non è che io seguo così tanto proprio il Gen Che mi vedo tutte le partite del Gen Quindi non lo so valutare Penso sia un po' più forte dei Padelli Quindi lo metto in C Questo facciamo finta che è Radu Poi abbiamo Pinamonti Per Pinamonti uso Esposito Dato che è il suo sostituto naturale E secondo me Pinamonti va tranquillamente In C Anche lui Non è assolutamente un giocatore Che mi fa impazzire Può anche andare bene come riserva Ma insomma Sta veramente giocando pochissimo Anche Conte non lo mette mai Quindi Un motivo ci sarà Mettiamola così Poi abbiamo Kolarov Per Kolarov usiamo Biraghi Kolarov è da B Secondo me All'Inter ha fatto malissimo Tant'è che Non sta praticamente più giocando Però non possiamo negare Che il suo valore C'è là Il suo valore c'è là E purtroppo Anche lui Vabbè è vecchio Ma All'Inter Non è riuscito a dimostrarlo Per niente Poi abbiamo Akimi Che sarebbe appunto Il sostituto naturale Che andrebbe E Akimi Assolutamente in S Cioè Akimi ha delle caratteristiche Pazzesche Anche lui comunque All'età Dalla sua Perché è del 98 Ma comunque Ha delle caratteristiche Pazzesche Velocità Corsa Più o meno Sono la stessa cosa Ma vabbè Cioè comunque Assist Goal Insomma Ce l'ha dimostrato Ce l'ha dimostrato Per Borca E lì era pure S Se vogliamo dirla tutta Poi abbiamo Darmian E basta No Mi sto a scordare qualcuno Ah Nainggolan E Perisic Ok Quindi Darmian Facciamo finta che Godin Darmian È da B Un ottimissimo Rincalzo Anzi Si è rivelato anche Qualcosa di più Io per primo Ammetto che ero scettico Quando è arrivato All'Inter Ma Mi ha dimostrato Veramente Di starci bene Ne spero Che continui così E poi abbiamo Nainggolan E Perisic E Chi metto Facciamo che Musis No Asamoah E Perisic Perisic È da Tra A e B Perisic Per quanto mi riguarda Ma lo metto in A B Forse è troppo poco Per lui Perisic B Pure lui Sta faticando Purtroppo All'Inter Ma Penso che Se ne andrà A gennaio Ma Anche se non Se dovesse rimanere Insomma Non credo sia L'ambiente Il modulo Giusto per lui Ecco Sinceramente parlando E infine Abbiamo come detto Nainggolan Che secondo me Anche lui È da A Sinceramente E Secondo me è da A E Lui se ne andrà Sicuramente A gennaio L'hanno detto E Da una parte Mi dispiace Dall'altra Anche per lui Capisco che È naturale Che sia così Perché per quanto sia Un buon giocatore Un buon centrocampista Secondo me lo è Ovviamente Ha dimostrato anche lui Di non sposarsi molto bene O con Conte O Quindi questa è la mia tier list Con tutti Diciamo Quelli di quest'anno Più Di vari Vecchi Che però in realtà Rappresentano i nuovi Spero vi sia piaciuto Ovviamente Ditemi cosa ne pensate voi E Ciao a tutti